Siamo nelle vicinanze di Pasqua e ormai la stagione turistica incombe, anche se la temperatura, dobbiamo dire, è ancora piuttosto rigida, comunque le giornate di sole si stanno avvicinando ed è momento di fare promozione turistica, in modo particolare per le prime avanguardie turistiche giungeranno nel nostro territorio in occasione delle prossime vacanze. Assessore Luca Relli, gli eventi costituiscono una fonte di attrazione di particolare importanza, che cosa si prospetta quest'anno ed è già stato varato il calendario degli eventi? Sì, oggi siamo qui proprio a presentare questo, un lavoro importante perché devo dire che arrivare alle porte della Pasqua, considerando che molte saranno le famiglie che in un qualche modo decidono di venire nel nostro territorio e magari decideranno di venire a visitare nella nostra città, Ecco, divulgare già da oggi il programma eventi della città che racconta la programmazione che avrà la nostra città nel periodo estivo, ma insomma per tutto l'anno 2023 è una cosa indispensabile se vogliamo parlare di turismo. Quindi da oggi questo calendario 20, fanno 2023, sarà distribuito ovviamente a tutti gli hotel, tutte le strutture ricettive aperte, sarà distribuito nei luoghi pubblici e tutte le attività private, insomma che lo vorranno e sarebbe importante averlo nella propria attività, possono venire nello IA di piazza 20 settembre, prenderne delle copie per poter dare informazione a tutti i turisti che saranno nella nostra città. Sono confermati i principali eventi di attrazione del nostro territorio? Sì, e qui voglio ringraziare coloro che lavorano anche con largo anticipo per una programmazione annuale, è un lavoro di squadra e questo ci permette oggi di vorare questo programma eventi di circa 25 pagine, che racconta i principali eventi che tutti conosciamo, che sono tutti confermati, con lo spostamento del brodetto che non sarà più a settembre ma si terrà ai primi di giugno, confermato l'evento di passaggi festival che ha passato a dieci anni e andiamo all'undicesimo, così come confermata la Fano di Cesare, il jazz e le altre manifestazioni. Si confermano le attività nella zona di Torrette, Ponte e Sasso, quindi attività di accoglienza, come nel programma sono riportati tutti gli eventi che le varie associazioni realizzano dei quartieri, perché riteniamo che i quartieri come il Lungomare siano parte integrante della città. Oltre al calendario ci sono anche altre forme di diffusione per quanto riguarda il programma? Stiamo andando verso il digitale, va benissimo un programma eventi, dietro il programma eventi c'è proprio scaricate l'app della città di Fano o visionate il nostro sito, perché ecco c'è una nuova app da poter scaricare ma in realtà è proprio un nuovo sistema intelligente, un portale dove noi siamo in grado di inserire tutte le informazioni e queste informazioni una volta rilasciate entreranno direttamente nell'applicazione, nel sito internet, in una serie di totem che da oggi saranno installati della città, Totem Touch che porteranno le pubblicità della città e dei vari eventi in base al periodo in cui le persone troveranno queste promozioni, ecco toccandoli potranno trovare tutte le informazioni della città. Quindi un metodo di diffusione nuova, più fresca, le persone che arriveranno hanno l'informazione a portata di mano per chi sa utilizzare bene il cellulare o a portata di Totem perché da oggi ne saranno installati due, uno in piazza e uno davanti al caffè centrale, ma per la fine dell'anno arriveranno anche nel lungomare.